Ci sono volute 162 lettere di sindaci per far sì che potesse candidarsi alla presidenza della regione. Sì, è un fatto straordinario e credo non abbia precedenti, che come ho detto mi ha fortemente emozionato, colpito e infine mi ha indotto a superare ogni incertezza ulteriore. Le titubanze dell'ex vicepresidente del CSM Giovanni Legnini sono state dunque superate proprio grazie alla richiesta di tanti primi cittadini abruzzesi. In 162 gli hanno chiesto fortemente in maniera unanime di candidarsi alle prossime regionali e a margine dell'inaugurazione oggi del nuovo anno accademico dell'Università d'Annunzio di Chieti, Pescara è incalzato dalle domande dei giornalisti. Di fronte a una sollecitazione così estesa, un appello così accorato, non potevo sottrarmi e nel momento nel quale ho detto sì parto per costruire un progetto nuovo di cambiamento per questa regione, una coalizione come ho detto ampia, plurale, nella quale ciascuno dei cittadini abruzzesi possa riconoscersi. Lei ha fatto un appello alla società civile affinché tutti possano e debbano dare il loro contributo. Sì, io vorrei che la coalizione, il progetto politico che sto costruendo fosse fortemente caratterizzato dall'impegno di persone che non hanno mai fatto politica, che rappresentano mondi, i mondi del lavoro, dell'impresa, delle professioni, della cultura, della formazione, dell'università, i giovani, le donne, vorrei che le donne fossero protagoniste in questa competizione elettorale. È una grande responsabilità perché la mia candidatura nasce da una sollecitazione così ampia e così diffusa, è una grande responsabilità perché gli impegni, i problemi, le aspirazioni, le necessità di questa regione sono straordinarie.